Si avvicina uno dei momenti di maggiore interesse dell'intera stagione calcistica giovanile, l'appuntamento che rappresenta ormai una tradizione del calcio italiano e internazionale. Dal 9 al 14 marzo 2017 è in programma ad arco la 46esima edizione del Trofeo da Peviola. La manifestazione coinvolge le migliori squadre e i migliori talenti della categoria allievi. In una settimana di sfide, appassionati e addetti ai lavori hanno la possibilità di verificare dal vivo lo stato e le tendenze di un mondo in rapida evoluzione come quello del calcio giovanile. Queste le 16 formazioni iscritte. I serbi del Partizan Belgrad, gli inglesi del Southampton, i danesi del Norgelland e poi l'italiana Atalanta, Ellas Verona, Roma, Chievo Verona, Sassuolo, Lazio, Napoli, Empoli, Inter, la selezione Trentina, la rappresentativa Lega Pro e la nazionale Dilettanti.